De Negri, coordinatore del CIF Borgo Marina che tra l'altro, eccolo qua, eccolo qua, grande allora, allora, io ringrazio anche personalmente il CIF perché so che vi siete dati da fare veramente tanto per così, come supporto a questa serata se vuole dire qualcosa al pubblico, prego intanto ringrazio tutti i presenti perché mi sembra molto importante che abbiano partecipato che siamo venuti a questa